Dovranno rispondere della presenza di rifiuti pericolosi al di fuori dell'area di messa in sicurezza permanente dell'ex fornace Gagliardi, incontrata Venna di Tollo, le quattro persone denunciate dal Corpo Forestale dello Stato di Ortona che sta conducendo le indagini sul sito in provincia di Chieti sin dal 2014. Manganese, nichel, ferro, cromo totale, boro, nitriti, solfati e floruri, tutti inquinanti trovati dalle analisi sulle acque sotterranee del torrente, valori anomali nelle falde e nelle acque di scarico che possono avere conseguenze letali sulla salubrità ambientale. Per affrontare l'inquinamento è stato bloccato lo scarico diretto delle acque reflue nel torrente Venna che poi confluisce nel fiume Foro grazie al posizionamento di vasche attenuta e sono stati rimossi tutti i big bags contenuti nel capannone. Inoltre sono state interessate tutte le autorità e gli enti preposti alle procedure di messa in sicurezza dell'area con il sindaco di Tollo, Radica, che ha predisposto un'ordinanza per vietare la captazione dell'acqua dal torrente Venna. Oltre a quanto ammassato all'interno dei due capannoni dentro i big bags che sono stati rimossi, ci sono rifiuti tombati che, secondo le indagini, nonostante dovessero essere in sicurezza, avrebbero in realtà contaminato la falda. Rifiuti speciali interrati al di fuori dell'area cinturata, un'area che durante i lavori di messa in sicurezza finanziati dalla regione Abruzzo nel 2009 era stata infondatamente dichiarata incontaminata. Questi rifiuti, a pochi metri dal torrente Venna, portati alla luce per ora in una piccola parte, grazie all'ausilio di un escavatore, sono risultati della stessa tipologia di quelli contenuti nei big bags e quelli sotterrati nell'area di messa in sicurezza, ovvero scarti di concerie e di rifiuti di processi industriali con concentrazioni consistenti di metalli e di altre sostanze riconducibili alle scorie di fusione.